Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle due monete viola della settimana 7 di Fortnite per la stagione 3. La prima moneta si trova qui, vedete? Cioè non potete sbagliarvi, è praticamente qui, in alto tra scogliere scoscese e foschi fumaioli. La seconda e ultima moneta viola della settimana 7 si trova praticamente qui sotto Parco Pacifico, su questa collinetta. Non potete assolutamente sbagliarvi, la vedete in lontananza. Eccola qua, la seconda e ultima moneta viola della settimana.